Ben ritrovati sul canale di Gilda TV. La tempesta Covid continua a minacciare il nostro pianeta e mentre sembra sfuggirci la comprensione di quanto stia accadendo, si insinua, scrive Renza Bertuzzi a pagina 2, il sospetto insidioso di non poter contare sulla competenza e serietà di chi si sta occupando di questo dramma. Ed è su questi dubbi che è nato il numero di maggio di professione docente, la rivista bimestrale diretta da Renza Bertuzzi. Per leggerlo potete collegarvi con il sito gildains.it mentre gli iscritti Gilda lo riceveranno direttamente a casa in forma cartacea. Sfogliamolo insieme partendo dalla suggestiva copertina dove la terra emerge dal mare e si fonde con il cielo. A pagina 3 le riflessioni di chi come Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda, assiste alla gestione della pandemia da cittadino e sindacalista e ne osserva le incongruenze. Il governo, scrive di meglio, convoca le organizzazioni sindacali per discutere i protocolli di sicurezza per i quali i sindacati non hanno competenze e ritarda invece il confronto sui contratti collettivi di lavoro di cui sono esperti. Vaccinare con priorità docenti e nello stesso tempo chiudere le scuole è lecito dal punto di vista costituzionale se lo chiede Francesco Pallanti, professore associato di diritto costituzionale nell'Università di Torino, nell'articolo a pagina 4 e 5. Legambiente ha condotto recentemente un'indagine sulla qualità dell'edilizia e dei servizi scolastici nel nostro paese. I dati evidenziano, scrive Fabrizio Rebeshek, a pagina 6, una situazione sconsolante. Ma se sostenerebbe Rebeshek è necessario un piano di riqualificazione per i nostri edifici scolastici, c'è rischio che questo venga condizionato da progetti di fantasiose sperimentazioni della didattica e dei suoi contenuti che hanno dimostrato negli ultimi anni la loro inefficacia. Esther Trevisan, a pagina 7, approfondisce il rapporto ecosistema Scuola 2021 di Lega Ambiente, anche in vista dei 6,8 miliardi di euro del recovery plan che il governo intende investire nell'edilizia scolastica. I docenti che da un anno convivono con la DAD sanno bene che la tecnologia digitale è un surrogato delle relazioni e delle istruzioni, ma soprattutto che la sostituzione delle lezioni in presenza con la didattica a distanza ha delle ricadute psicologiche sugli studenti. A pagina 8 e 9 l'articolo con l'intervista di Esther Trevisan alla psicologa Michela Gallina. Per chi lavora a distanza e vuole sentirsi meno isolato in casa, Roberto Casati, filosofo e studioso dei processi cognitivi, suggerisce l'utilizzo della piattaforma digitale GT. Con questa ci informa Casati si navega in una riproduzione tipo videogioco di ufficio. L'articolo è a pagina 10. Di Marco Morini a pagina 11 l'articolo sui provvedimenti anti-covid del Regno Unito che hanno portato all'apertura di tutte le scuole del paese. A pagina 12 e 13 l'articolo con la recensione di Gianluigi Dotti del libro Nello specchio della scuola edizione Mulino, scritto da Patrizio Bianchi prima della nomina a ministro dell'istruzione. Siamo vicini alle valutazioni finali degli alunni e il dibattito sul diritto al successo formativo si è arricchito del recente contributo di Giorgio Ragazzini del gruppo di Firenze per la scuola del merito della responsabilità. Il tema è approfondito da Gianluigi Dotti nell'articolo a pagina 13. Su Gilda TV, ise.it, i servizi con l'intervista a Giorgio Ragazzini dal titolo dal diritto al successo formativo al diritto all'apprendimento. Il processo di disgregazione delle discipline va avanti, scrive Giovanni Carosotti a pagina 14. Il compito dei docenti sostiene Carosotti impegnarsi per mantenere dignitoso il livello culturale del prossimo l'esame di maturità, soprattutto nell'interesse dei propri studenti. A pagina 15 Un tempo senza storia, la distruzione del passato, edizione in Audi, il nuovo libro di Adriano Prosperi, professore merito di storia moderna. La recensione a cura di Renza Bertuzzi. Se a scuola si trascura la dimensione storica, sostiene Adriano Prosperi, nelle interessanti interviste di Renza Bertuzzi, a pagina 17, si perde l'occasione di stimolare la crescita della coscienza dei problemi del nostro tempo e la maturazione intellettuale dei giovani. Antonio Antonazzo, responsabile del Dipartimento Precari della Gilda, presenta nell'articolo a pagina 18 la proposta per risolvere l'annoso fenomeno del precariato. L'universalità delle opere di Dante Alighieri è stata sperimentata a nuoro in occasione del settecentesimo anniversario della morte del poeta. L'iniziativa della professoressa Loredana Rosa ha coinvolto nello studio dell'Inferno dieci studentesse del CPA di sette nazionalità diverse. L'articolo di Esther Trevis a pagina 19. Da docente di inglese e quindi con una formazione linguistica, Alberto Dainese si sofferma sull'uso improprio dei termini inglesi usati al tempo del Covid. E dal professor Fabrizio Tonelli, docente di scienza politica presso l'Università di Pardova, l'analisi del termine resilienza molto usato e abusato negli ultimi tempi. A pagina 22 Viviana Iannelli e Paola Vigoritto descrivono lo sforzo e l'impegno responsabili degli insegnanti delle scuole primarie che in breve tempo hanno dovuto lavorare per adattare il documento di valutazione degli alunni alle nuove linee guida. E' nata la piattaforma Dante per l'insegnamento della lingua italiana, la formazione dei docenti e la cultura, con particolare attenzione alle scuole di italiano nel mondo. L'articolo di Massimo Quintigliani a pagina 23. Il libro di Francesco Pallante, L'oggio alle tasse edizione Gruppo Abele, è recensito nell'articolo a pagina 24 da Fabrizio Rebes. Vi ringrazio per l'attenzione, cliccate mi piace se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale per non perdere i nostri servizi. Arrivederci da Gilda TV.